bella a tutti forniters benvenuti sulle on tube mi raccomando iscrivetevi al canale mettete un bel like questo video in cui andiamo a fare la missione colpisci alla testa gli avversari con il fucile pesante evocromo o con il vampa fucile aurora per trovare le armi evocromo per prima cosa dobbiamo atterrare nelle zone cromate dove avremo più probabilità di trovare le armi cromo questo caso io non l'ho trovata a si l'ho trovata eccola qua quindi l'avversario qua vediamo un po se lo trovo tanto proviamo a sparare direttamente anche ad araldo vediamo eh ok qui sotto araldo qui apriamo anche questi forzieri vediamo se da lontano eccolo qua buono fucile pesante evocromo ok poche casse vediamo qua se c'è quella solita no ok vediamo se lo colpiscono la testa se me lo conta 1 ok quindi abbiamo visto il metodo facile poi dopo di che bisogna scappare perché lui ci scaglia contro i lupi questo è il metodo facile facile quindi vediamo i lupi vediamo se si è calmato ok si è già calmato colpito avete visto ci nascondiamo di nuovo con questa tecnica arriviamo a 15 molto molto facilmente se il video vi è piaciuto mi raccomando un bel like condividetelo con i vostri amici non dimenticate di lasciare un commento se vi va come sempre vi invitiamo a iscrivervi al nostro canale non dimenticate di cliccare la campanella per non perdere le nostre novità andiamo a dargli un altro cupetto occhio perché lei vi spara siamo già a 3 di 15 ok qui mi vede quindi no dobbiamo scappare star nascosti in modo che sti calvi poi una volta calmata l'andiamo a riattaccare di nuovo si sente un po già anche dalla musichetta ancora non è calma eccola ora perché ancora mi vede ok quindi dovete nascondervi avete visto comunque come fare ci vediamo presto con altri video ciao a tutti